guanti ma sì questo qua lo mettiamo qua ah no ma così storta perché così storta ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi ti trafugano, c'è un più posto, qua che sta girando dalla mia ternica. E' finita un po' troppo presto. Chiusuretta a sinistra, a destra, troppo un'orecchietta. Sono tirati su tutti, se no io che sono rimasto qua. E' pieno di vele. E' pieno di vele. E' pieno di vele. Altro mi posto in volo. Tanto nella in volo. E' pieno di vele. E' pieno di vele. Sembra proprio che sia qui dal decolo la termica oggi. un po' di sole, magari fa staccare qualche volo. E' pieno di vele. 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 Andiamo a vedere di qua. E' pieno di vele. Qualcosina c'è mai borsa, borsa Ehi, qui ci abbiamo Alberto, guardate dove ne viene. Eh, freschino eh. Che sia la termica che è proprio quella del decone. Stacca proprio. Sempre alla vasca. Qua sto a prendere come riferimento alla vasca e si chiama la termica. Qua sto a prendere? 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 Ma scutato, ma scutato. Ma scutato, fai. Qua sto a prendere? 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 questa è destra so Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, c'è anche qua bene. Un po' più regolare. 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 Ho capito, d'accordo, si atterra bene? Si atterra bene dal gigante? Si atterra bene dal gigante? Vabbè, lascia perdere. Ok, va bene, io sono in volo, sono sopra il Monte Rosso Vecchio, sto arrivando verso di voi. Un po' più regolare. Un po' più regolare. Un po' più regolare. Sì, sulla spiaggia lunga c'è un po' di gente, ma c'è anche dei bei spazi. per cui si atterra bene, per cui si atterra bene anche sulla spiaggia, magari urlando un po' prima di mettere i piedi. Un po' più regolare. Un po' più regolare. Renato D'Aldo apparentemente le condizioni sono solo in decollo perché qua sono sulla stazione non c'è nulla si vedo ora la manica è appena appena da sud non c'è molto oeste in atterraggio quindi il vento è debole dal mare dritto dal mare a presto a presto ecco il mesco 08 a scendere direi che non c'è nulla allora ok ricevuto se vuoi volare ancora vola Renato se no vieni giù facciamo di nuovo un viaggio torniamo su va bene non c'è nulla 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 attenzione 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 non c'è nulla non c'è nulla non c'è nulla